Canale YouTube di Luigi Gaglio La terza declinazione, terzo gruppo e particolarità Grazie, allora oggi studiamo l'ultimo gruppo, l'ultimo modello di declinazione della terza che è il terzo. Una volta terminato anche questo modello di declinazione potremo quindi studiare le particolarità della terza appartengono a questo terzo gruppo, i nomi neutri che escono in Al, Ar, E e appartengono a questo gruppo anche dei nomi che non sono neutri facciamo così, iniziamo proprio dai nomi che non sono neutri esistono anche dei nomi femminili, pochi nomi parisillabi, per lo più femminili che appartengono a questo terzo gruppo e sono questi nomi Amussis, che vuol dire il traguardo Buris, che vuol dire il timone dell'aratro Ravis, che vuol dire l'araucedine Sitis, che vuol dire la sete Tussis, che vuol dire la tosse Bene, ci sono comunque anche altri nomi come Puppis, Puppis che pur avendo potendo avere le desinenze del secondo gruppo possono avere anche le desinenze del terzo gruppo cioè l'accusativo singolare in Im e l'ablativo singolare in I Sul vostro libro per esempio c'è la declinazione di Puppis, Puppis La poppa della nave, Puppis, Puppis, Puppi L'accusativo, come vedete, può essere in Im come Buris che ha Burim, ma può essere anche in Em quindi possiamo avere sia Puppim sia Puppem Il vocativo è sempre uguale al nominativo, quindi è Puppis Sì, lo possiamo trovare in espressioni latine sia in Im sia in Em Lo stesso è l'ablativo L'ablativo del terzo gruppo è in I e quindi possiamo trovare Puppi ma possiamo trovare anche Puppe con la E Plurale Puppes, Puppi, Puppibus Puppis, Puppes, Puppibus Questa cosa riguarda non solamente Puppis ma anche altri nomi per i sillabi come Ignis, Ignis, che può avere l'ablativo in I come Febris, Febris, che può avere sia l'ablativo in I sia l'accusativo in Im la Febbre, sia Classis, Classis, la flotta allora Puppis, Febris e Classis sono del terzo gruppo eccezionalmente si può trovare anche l'accusativo in Em e l'ablativo in E ma generalmente questi nomi hanno l'accusativo in Im e l'ablativo in I è il caso anche di Navis, Navis che ha quindi sia l'accusativo in Im, Navim sia l'accusativo in Em, l'ablativo in I la nostra preoccupazione principale è quella di tradurre un termine ecco, attenzione quelli che trovate qui in questa slide però sono sicuramente del terzo gruppo perché non hanno mai l'accusativo in Em e il vocativo in E il problema invece compare per nomi come Securis, Securis, la scure che ha sia l'accusativo in Em sia l'accusativo in Im Turris, Turris, la torre mentre Ignis, Ignis, abbiamo detto che è del secondo gruppo e che può avere solo eccezionalmente l'ablativo in I anziché E allora, oltre comunque a questi nomi femminili e qui ritorniamo alla slide che avevamo visto all'inizio ci sono dei nomi neutri tutti i nomi neutri che hanno il nominativo in Al Animal, Animalis Saturnal, Saturnalis il nominativo in Ar Exemplare, Exemplaris Calcar, Calcaris il nominativo in E Mare, Maris adesso vedremo Cubile, Cubilis il covile, la tana, la camera, la stanza sono del terzo gruppo quindi hanno l'ablativo singolare in I è nominativo accusativo, vocativo plurale in Ia il genitivo plurale in Ium come secondo gruppo ok quindi vedete qua la declinazione di Mare, Maris, Mari Mare, Mare, Mare Maria, Marium, Maribus Maria, Maria, Maribus il mare ricordate che il mare si può dire anche Pelagus però ha solamente il singolare Pelagus invece Mare ha anche il plurale bene come Mare si declinano dicevamo tutti quanti i nomi neutri con il nominativo in Al Ar ed E per esempio sapete declinare Altare, Altaris Altare, Altaris Altari Altare perché neutro attenzione che i neutri hanno sempre l'accusativo uguale al nominativo Altare, Altare, Altari plurale Altaria Altarium, Altaribus Altare, Altare, Altaribus e così anche exemplar Mare, Maris Vectigal, Vectigalis la tassa il tema I di questi sostantivi si fonde con le desinenze l'uscita del nominativo può essere al Ar a differenza di tutti gli altri sostantivi della terza declinazione è così attenzione ricapitolando primo gruppo genitivo plurale in Um secondo gruppo genitivo plurale in Ium anche il terzo gruppo genitivo plurale in Ium il primo gruppo e il secondo hanno l'ablativo singolare in I scusate in E mentre il terzo gruppo ha l'ablativo singolare in I ecco qui vedete la declinazione di questi nomi neutri bene ricordate che questi sostantivi hanno il genitivo plurale in Ium nella flessione alcune forme presentano la stessa uscita Ia per nominativo accusativo vocativo plurale Ibus per dativo ablativo plurale bene chiediamo adesso un compagno per esempio Alessia Bartolacci di declinare rete retis come si declina rete retis? rete retis la rete è un nome neutro del terzo gruppo quindi come si declina? come si declina? dobbiamo vedi qua le forme da scrivere sono quelle nella slide dobbiamo metterle al punto giusto rete retis si declina come mare maris come animal animalis attenzione alle parole che sono scritte nello stesso modo ma che hanno un significato diverso per esempio leggiamo queste due frasi una di Livio e l'altra di Cicerone Magone raccoglieva alcune truppe ausiliarie dalla costa africana ex ora eo ex più ablativo dalla costa africana l'altra frase eorum ora sermones ferre non possumus non possiamo sopportare le loro espressioni e i loro discorsi attenzione la parola ora in latino dico ora senza H perché ora con l'H è l'ora del tempo ora senza H può essere della prima ora ore che vuol dire costa litorale spiaggia oppure può essere della terza os oris che vuol dire bocca ma volevo sapere se sono scritti uguali o si leggono uguali sono scritti e si leggono uguali omografe letteralmente vuol dire che sono scritti nello stesso modo però di fatto si pronunciano anche nello stesso modo qui per esempio non abbiamo del tre sillabe o più di tre il problema della pronuncia magari è quando ci sono almeno tre sillabe quando ci sono solamente due sillabe il nome in latino è piano cioè ha l'accento sulla penultima sempre non ha mai l'accento sull'ultima allora in apparenza ricorre lo stesso vocabolo ora in realtà anche se le due parole si scrivono nel stesso modo cioè sono omografe la prima è l'ablativo singolare di ora ore ore oram ora ora la seconda è un accusativo neutro plurale di os oris che vuol dire dicevamo bocca ma anche volto espressione che spesso si capisce da come noi dal nostro volto insomma in questo caso la segnalazione della quantità dell'ultima sillaba ora nel primo caso effettivamente ha la quantità lunga quindi è vero si pronuncia nello stesso modo però il latino aveva la quantità lunga quindi effettivamente in un certo senso avevi ragione tu Jacopo perché ora i latini lo pronunciavano più o meno in questo modo ora con la A leggermente più lunga mentre ora con la A breve è neutro plurale di Os Oris ma è sentito per esempio nelle prescrizioni mediche di assumere una certa medicina per Os vuol dire attraverso la bocca ora nel secondo permetterebbe di evitare l'equivoco ma non sempre si trova indicata la quantità generalmente però la quantità sull'ultima non viene indicata viene spesso indicata la quantità sulla penultima perché ci serve per pronunciare una parola sdrucciola oppure piana la quantità sull'ultima non viene indicata quindi dobbiamo capire dal contesto esistono altri casi simili cioè circostanze in cui una parola per esempio un nome può essere scambiata per un altro un nome di una diversa declinazione un aggettivo anche una forma verbale che sia scritta nello stesso modo in questi casi è bene consultare il dizionario ma soprattutto osservare con attenzione la frase perché osservando la frase possiamo capire ad esempio che ora è ablativo e non neutroplurale ad esempio benissimo passiamo adesso nella pagina seguente alle particolarità della terza declinazione incominciamo con lo studiare a memoria la declinazione di vis vis vuol dire la forza vis indica la forza in senso dinamico robur roburis indica la forza nel senso statico della resistenza tant'è vero che robur vuol dire quercia avete mai sentito rovere per esempio il rovere è la quercia bene ok vis però non ha il genitivo e il dativo singolare per questo motivo c'è la convenzione è una convenzione però eh di sostituire il genitivo e il dativo singolare di vis che non esiste con quello di robur roburis ricordiamo quindi e studiamo a memoria questa declinazione vis roburis roburi vim vis vi è il singolare di questo nome questo nome al plurale cambia cambia il tema nel senso che al plurale al plurale assume il tema vir quindi fa vires virium viribus vires vires viribus questa declinazione è da sapere a memoria attenzione a non confondervi con vir viri che è della seconda e vuol dire l'uomo vir viri viro virum vir viro viri virorum viris viros viri viris e di non confondervi con virus che invece vuol dire veleno ed è un nome difettivo sempre della seconda altri nomi che hanno declinazioni particolari giove giove si dice jupiter jovis jovi jovem jupiter jove ovviamente assolutamente singolare perché ha questo nominativo così strano perché all'origine era jovis pater era giove padre poi queste due parole giove padre si sono unite in una sola e quindi il nominativo è molto irregolare è da sapere a memoria jupiter jovis jovi jovem jupiter jove a parte il nominativo evocativo per il resto è regolare questo sì domanda non c'è perché giove è uno solo poi altri nomi che hanno declinazioni particolari iter itineris che vuol dire viaggio o marcia attenzione che iter vuol dire in sostanza tutto ciò che conduce da un punto a a un punto b quindi un percorso un cammino una via una strada dicevamo un iter in italiano esiste la parola infatti iter latinismo insomma che indica per esempio in campo giuridico la procedura da fare per da iter itinerario benissimo imparati a memoria la declinazione di iter iter itineris itinere iter iter itinere perché questo è un neutro i neutri hanno sempre l'accusativo e il vocativo uguali al nominativo plurale itinera itinera scusate itinera itinerum itineribus itinera itinera itineribus sul vostro libro anche superlex superlectilis ecco che è usato solamente al singolare forma tutti i casi tranne il nominativo e il vocativo singolare dal tema superlectil quindi superlex è un po' come iter come jupiter cioè è un nominativo irregolare diciamo così jucur jucuris il fegato che ha delle forme dal tema jucur ma anche delle forme dal tema juciner quindi o juciner quindi può esserci nominativo jucur ma due genitivi cioè jucuris e jucineris o addirittura o addirittura jucineris e via discorrendo il resto della declinazione femur femoris il femore presenta anche una declinazione sul tema femmin quindi possiamo avere un solo nominativo che è femur ma possiamo avere due genitivi femoris ma anche feminis il dativo femori ma anche femini altre particolarità iugerum iugeri iugero nel singolare segue la seconda declinazione nel plurale la terza quindi iugerum iuger iugerum 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 seconda declinazione al singolare al plurale iugerum iugeribus iugerah iugerah iugeribus segue la terza vas vasis vaso nel singolare segue la terza declinazione nel plurale segue la seconda il contrario vas vasis vasi vas vas Vase, singolare della terza, plurale della seconda, vasa vasorum vasis, vasa vasa vasis. Bos bovis, il bue, declinazione irregolare, da studiare a memoria. Bos bovis bovi, bovem, bos bove. Ecco, qui abbiamo il nominativo e il vocativo in bos e sembra abbastanza regolare, ma diventa molto irregolare nel plurale dove c'è. Il nominativo boves, genitivo è irregolare perché boum, il dativo è irregolare perché bubus o bobus. L'accusativo ritorna boves, bubus, sì. L'accusativo ritorna boves, vocativo boves, ablativo come il dativo, quindi bubus o bobus. Poi abbiamo anche sus, suis, il porco o la scrofa. Nel dativo, nell'ablativo plurale ha subus più frequente rispetto alla forma regolare suibus, da cui suino in italiano. Le particolarità nel numero. Esempio, alcuni sostantivi hanno un significato diverso al singolare e al plurale. Ad esempio, finis, al singolare, significa fine, confine. Al plurale significa confini, magari territorio. Al plurale lo posso tradurre come se fosse un singolare. Anzi, più delle volte è meglio tradurre fines, finium con territorio. Poi, ops, opis, vuol dire mezzo risorsa al plurale. Al plurale, è vero, può significare ancora mezze risorse, ma anche potenza esercito. Pars, partis, al singolare significa parte. Al plurale significa partito, fazione. Sul vostro libro ci sono anche questi altri sostantivi. Edes, edis, edes, edes, edis, è un nome importante. È un nome che si trova molte volte. Al singolare significa tempio. Al plurale, edes, edium, significa casa invece. Carcer, carceris. Al singolare vuol dire carcere. Al plurale, al plurale i cancelli. Bene, parliamo adesso dei plurali a tanto. Parliamo adesso dei nomi che hanno solamente il plurale. Sono baccanalia baccanalium, i baccanali sono delle feste, alpes alpium, le alpi. Quindi nomi comuni come meni a menium le mura e nomi tra virgolette derivati da aggettivi come maiores maiorum che vuol dire gli antenati, optimates optimatum che vuol dire gli ottimati, i nobili, i conservatori. Sul vostro libro parla anche di alcuni nomi che hanno solamente il singolare, che sono lac lactis, il latte ha solo il singolare, pietas pietatis, la pietà ha solo il singolare, sanguis sanguinis ha solo il singolare. L'ultima cosa da spiegare oggi sono le particolarità dei complementi di luogo con i nomi della terza declinazione. Completiamo il discorso sulle particolarità dei complementi di luogo. Vediamo ad esempio come si comportano i nomi di città di piccola isola, che sono della terza declinazione, quando sono complementi di luogo. Lo stato e il luogo è con l'ablativo semplice, esempio cartago, cartaginis, cartagine vuol dire a cartagine. Non c'è il caso locativo come Rome, Brundisi, ma il caso è l'ablativo semplice, per i nomi di città di piccola isola non solo plurali, ma anche quelli singolari. Quindi il moto a luogo in accusativo semplice, plurali, gadibus per esempio, a cadice è un plurali a tantum. Abbiamo detto infatti che molti nomi geografici sono plurali a tantum. A cadice si dice gadibus. Poi il moto a luogo è in accusativo semplice, esempio cartaginem, amilcare giunge a cartagini, complemento di moto a luogo con l'accusativo semplice. Motto da luogo in ablativo semplice, ma certe volte anche addirittura con A o AB più ablativo, come se non fossero dei nomi di città o di piccola isola, seguendo quindi la regola generale. Poi, col sostantivo mare maris, lo stato e il luogo è espresso con l'ablativo semplice mari, che vuol dire sul mare. Il moto per luogo è espresso anch'esso con l'ablativo semplice. Mari vuol dire quindi sia sul mare, sia per via di mare. E infatti l'espressione terra maricoe vuol dire per terra e per mare. rus ruris, rus ruris è un nome regolare del primo gruppo della terza declinazione. Vuol dire la campagna, rus ruri ruri, rur, rus, scusate, rus rus rure. Ebbene, attenzione, lo stato e il luogo, questo nome praticamente si comporta come se fosse un nome di città o di piccola isola. Non ha le preposizioni complementi di luogo senza preposizioni. Quindi, stato e il luogo, caso locativo, ruri ce l'ha il locativo. Quindi è rimasto il caso locativo, vi ricordate per i nomi di città o di piccola isola singolari della prima e della seconda, ma anche in rus, che ha ruri, che vuol dire in campagna. Moto a luogo in accusativo semplice, rus, perché abbiamo detto che è neutro, è l'accusativo, guarda il nominativo. Moto da luogo in ablativo semplice, rure, che vuol dire dalla campagna di moto da luogo, perché nella campagna di stato e luogo invece è ruri. Ah, ecco, attenzione, che cos'è il locativo? Il locativo era un altro caso, perché all'origine, nell'inde europeo originario, i casi non erano sei, ma erano otto, perché c'era anche lo strumentale e il locativo. Lo strumentale è il caso del complemento di mezzo. Lo strumentale è stato completamente assorbito dall'ablativo, che invece è il caso del complemento di allontanamento o separazione o luogo, o moto da luogo. Invece il locativo è stato assorbito quasi totalmente dall'ablativo, tranne poche eccezioni, come i nomi di città o di piccola isola della prima e seconda singolari, e rus, che ha ancora il caso locativo, capisci? In realtà, addirittura, in questo caso, corrisponde più al dativo che non all'ablativo, al genitivo, perché questo nome, questo nome rus, si declina così, rus, ruris, ruri, rus, 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 ru, re. Quindi, la desinenza i, in questo caso, addirittura, assomiglia più al dativo. È la stessa desinenza del dativo. Se era questa la tua domanda, la mia risposta è la seguente. In questo caso, il locativo, perché in realtà non è un vero e proprio dativo, è il locativo che è rimasto, di questo nome è rimasto il locativo. In realtà, corrisponde più al dativo che non ad altri casi.